di nuovo buonasera e benvenuti nel backstage di company contatto ad asiago e allora siamo con i fillet ciao 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 fa freddo fa freddo fa freddo ciao ciao buonasera a tutti ciao ma dobbiamo riscaldare la gente per forza ci vuole un bel po di caldo ci vuole con i fillet del resto ciao ciao freddissimo non si possono dire queste cose allora come vi siete trovati vabbè 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 dai vero e ragione mi sono fregato da solo allora come si sta con radio company da dopo tutte queste volte che ci siamo visti ma guarda è fighissimo perché ci dà degli spunti eccezionali noi oggi per esempio senza radiocompati senza radio company non avremmo mai potuto decidere di andare a fare un giro in paese in bicicletta ubriacarci di vino a morire su una salitella sarà mica solo questa vi siete divertiti siamo divertiti tantissimo sono state le tre serate che abbiamo fatto fantastiche questo deve ancora arrivare ma sappiamo già che sarà meravigliosa perché a vedere tutta la gente che c'è si sente già profumo di di serata fantastica e io sento un certo profumo stasera ma non importa allora l'ultimo messaggio forte dei fillet al tutto il popolo di radio company che ci sta guardando buon ferragosto anche se il ferragosto è passato passate le vacanze nella maniera migliore cui potete noi le stiamo già passando da dio grazie a radio company e grazie a tutta questa bella gente io questi ragazzi li adoro ciao dai fillet ciao ciao